Mister, porta settimana di allenamento che porterà l'ultimo impegno in quel di Poggi Bonzi, si respira un po' l'aria negli ultimi giorni di scuola? Per noi deve essere l'ultima partita, deve essere la partita invece dove dobbiamo cercare di cogliere il risultato pieno per coronare una stagione che con due sconfitte non piace a nessuno finire un campionato in questa maniera qua per cui indipendentemente dalla promozione di tutti i testo io penso proprio che andare a cercare una vittoria per arrivare a 50 punti sia il minimo che dobbiamo fare con impegno Anche perché qualcuno qui a Dischia, soprattutto i tifosi, avevano ricordato la promessa dei 50 punti fatta da Campilongo all'inizio della stagione i 50 punti che potrebbero arrivare appunto a Poggi Bonzi Sì, io credo che i 50 punti siano un bottino importante per una neopromossa e ho parlato con i ragazzi, noi andremo a Poggi Bonzi con la massima determinazione proprio per cercare il risultato pieno ripeto, tutti i congenitati come è una partita importante per noi per vari aspetti, indipendentemente ho detto dalla qualificazione Il sera l'indomani della partita col Poggi Bonzi finirà definitivamente la stagione oppure vi ritroverete per qualche altro appuntamento? No, io ho parlato già con i ragazzi dopo Poggi Bonzi daremo 4-5 giorni di libertà dopodiché verranno chiamati quelli che la società intende riconfermare per l'anno prossimo e si darà un allenamento di mantenimento almeno fino alla metà di giugno perché il camminato finisce troppo presto pensare di poter stare fermi fino al 20-25 luglio per il ritiro sarebbe proprio catastrofico perché poi riprende i giocatori che stanno fermi due o tre mesi